Storia Sottimilcana è un progetto culturale rivolto ai ragazzi di scuole dell'area etnea che spinge, che induce i ragazzi a scrivere, a leggere, a esprimere la loro creatività anche attraverso le costrazioni, ma soprattutto a recuperare una identità partendo dalla conoscenza del territorio. Conoscere il territorio significa scoprire le nostre radici e quindi comprendere che dal passato e verso la conoscenza del passato possiamo costruire anche il presente.